8 semplici modi per avere successo, da 8 leader ispiratori. Come definiamo il nostro successo? È perché riceviamo un grosso stipendio, viviamo in una casa straordinariamente grande, abbiamo sposato il ragazzo o la ragazza più sexy della contea o guidiamo l'auto più veloce del quartiere? Queste non sono certo le misure del successo. La creazione di un'azienda e l'imprenditorialità richiedono talenti unici amore per la propria carriera. Non si tratta di cose frivole. Si tratta di opportunità e della capacità di scoprire i propri sogni. Ci sono 8 regole molto semplici da seguire per raggiungere il vero successo. Siate appassionati. Fate ciò che amate. Se non lo amate, perché farlo? Se costruiamo carriere o continuiamo a fare lavori che non sono la nostra passione, ci stiamo vendendo male. È come il ragazzo che fa il consulente tecnico e che in realtà voleva essere il cantante di una band. Ho già scritto in passato di amore e carriera e credo che la conclusione sia che se fate davvero quello che voi volete fare, sarete più creativi, più motivati, più sintonizzati e avrete molte più probabilità di essere finanziariamente e personalmente prosperi. Katherine Hepburn l'ha detto meglio. Se devi mantenerti, è meglio che trovi un modo che sia interessante. Lavorare sodo. Non illudetevi mai, il successo viene dal duro lavoro. E potreste scoprire che, sebbene siate voi a fare tutto il lavoro pesante, c'è soddisfazione in un lavoro ben fatto. Ma ricordate che dovete fare affidamento sugli altri, quindi assicuratevi di circondarvi di colleghi che condividano la vostra stessa etica lavorativa. Non conosco nessuno che sia arrivato in cima senza lavorare sodo. Questa è la ricetta. Non vi porterà sempre in cima, ma dovrebbe farvi avvicinare, Margaret Thatcher. Siate bravi. E con questo intendo dire dannatamente bravi. Le persone di successo puntano alla grandezza, non alla mediocrità. Quindi spingete voi stessi, e il vostro team, per assicurarvi di aver raggiunto il vostro massimo potenziale. E assicuratevi di festeggiare le vittorie, che non solo infondono fiducia nel vostro team, ma mantengono i vostri colleghi impegnati e anche i vostri clienti. Se non avete letto il libro da buono a grande, prendetene una copia. James Corso Collins ha detto, la grandezza non è una funzione delle circostanze. La grandezza, a quanto pare, è in gran parte una questione di scelta consapevole e di disciplina. Concentrazione. La concentrazione precede sempre il successo, che non è possibile senza una chiara enfasi su ciò che conta di più. I leader devono costantemente ricordare a se stessi questa verità vitale. La concentrazione richiede il perseguimento di una missione e di una visione. I bravi leader aziendali creano una visione, la articolano, ne sono appassionati e la portano a compimento senza sosta, ha detto Jack Welch. Spingersi oltre i limiti. Richard Branson ha detto. Troppe persone non eccellono nella vita perché hanno troppa paura di fare i passi necessari per realizzare i loro sogni. Alcuni manifestano la paura come una salvaguardia dal fallimento, altri non ci provano nemmeno, credendo di essere limitati dai limiti, mentre troppi rimangono intrappolati nello status quo. Non limitatevi a pensare all'interno degli schemi e non permettete alla paura di ostacolarvi. Oggi le persone si aspettano qualcosa di più dell'ordinario, quindi dovete essere straordinari per farvi notare e costruire relazioni forti con il vostro mercato di riferimento. Sia che vendiate un prodotto o un servizio, dovete offrire la massima esperienza. Servire. L'eccellenza del servizio clienti è sempre stata e sarà sempre uno dei vantaggi competitivi fondamentali per qualsiasi azienda. Soddisfare le esigenze dei clienti vi aiuterà a costruire un marchio molto forte e memorabile. Siate reattivi, ascoltate e osservate, creerete valore. Imparate dagli errori nel servizio. I vostri clienti più scontenti sono la vostra più grande fonte di apprendimento, Bill Gates. Creare idee. Oltre al servizio, l'ingegnosità, l'autenticità e il pensiero lungimirante saranno alla base del vostro marchio. L'aspirazione fa parte del processo creativo. Come disse Steve Jobs. Voglio creare un suono nell'universo. Dovete sempre continuare a innovare, soprattutto in uno spazio di mercato competitivo. Spingetevi oltre quando si tratta di ideazione. Siate perseveranti. Lo sviluppo del business e l'imprenditorialità dovrebbero essere costruiti dall'amore, e ogni grande amore richiede passione e perseveranza per realizzare il vostro sogno. Sebbene si possano sperimentare battute d'arresto e fallimenti, si troveranno anche successi e trionfi. Potrete incontrare molte sconfitte, ma non dovete lasciarvi abbattere. Anzi, potrebbe essere necessario incontrare le sconfitte, per sapere chi siete, da cosa potete rialzarvi, come potete ancora uscirne, ha detto Maya Angelou.